Quanto tu ho amato e quanto t'amo, non lo sai Mi riminchiate Tom? Ecco, adesso sono per segnare Ciao ragazzi Ehi Quindi potete offrire una sigaretta? Attraverso un triangolo amoroso vorrei raccontare le varie fasi dell'amore e la percezione del tempo che si ha in base a come si vivono queste fasi dell'amore se si soffre da una parte e quindi un tempo più dilatato piuttosto che se si è innamorato e quindi un tempo che non basta mai Diciamo sono l'intruso, sono il terzo elemento in un rapporto di amore che come dice il titolo è all'alba, è la fine l'autunno di una storia d'amore infatti il titolo è l'ultima foglia e fa richiamo proprio l'autunno di una storia d'amore Tant'è che il mio personaggio, come voleva sviluppare Leonardo il regista c'è sempre un elemento verde che richiama la primavera, il nuovo, il fresco in questo rapporto d'amore Diciamo sono il terzo elemento In realtà volevo raccontare la notte Volevo raccontare la notte di Roma La notte di una Roma di periferia Da lì ho immaginato, ho preso come pretesto diciamo dei personaggi che si rincorrono si rincorrono senza mai acchiapparsi, ciuffarsi quindi comunque per me è stato bello concentrarsi su dei momenti di una storia d'amore che si vivono di notte e si vivono in una periferia che spesso è poco raccontata soprattutto di Roma secondo me infatti anche delle varie esperienze che ho avuto all'estero, nei festival molti mi hanno detto proprio che non si aspettavano a Roma così perché spesso ci si concentra su una Roma un po' più blasonata, più turistica, più colosseo e sono rimasta molto impressionata dal calore con il quale per esempio gli inglesi a Rain Dance Festival l'hanno accolto perché la classica freddezza britannica è stata sciolta da un soggetto che alla fine purtroppo tocca a tutti quanti come purtroppo la morte e la malattia ci tocca a tutti quanti in un modo o in un altro di affrontare l'amore anche dall'altro punto di vista cioè la sofferenza e devo dire che sono molto fiera di aver fatto parte di un progetto d'arte un film di sicuro che mette un po' d'ansia allo spettacolo perché la coppia è in crisi comunque quest'ansia la si percepisce nei silenzi nell'incomunicabilità della coppia però secondo me alla fine c'è un messaggio di speranza è sicuramente un film che ti lascia qualcosa dentro che rielabori dentro anche dopo che le luci in sala si sono accese forse lo so io che si fa ora tu ti rilassi wow sì mi piace l'ultima foglia di Leonardo Frosina è un autunno sentimentale racconta il finire di un matrimonio tra due giovani emigrati a Roma due giovani siciliani emigrati a Roma che sul finire della loro storia d'amore del loro matrimonio restano uniti da un figlio in arrivo io lo trovo un ottimo esordio è un film robusto narrativamente che attraverso la notte romana riesce ad esplorare i sentimenti dei personaggi che ne sono protagonisti e mi sembra un po' un Blue Valentine all'italiana che proprio sul finire di questo sentimento riesce comunque a far venire fuori una forza emotiva e affettiva che alla fine conquista lo spettatore e lo coinvolge fino all'ultima scena quanto tu...